Ciao, è Isabella di DecadentDecaf.com, il marchio di caffè decaffeinato leader nel Regno Unito. Oggi ci poniamo la domanda. Il caffè normale o decaffeinato influisce sulla progressione del glaucoma? Ci sono alcune prove che bere bevande contenenti caffeina, incluso il caffè, provoca un aumento della pressione oculare, anche con una sola tazza di caffè. Questo effetto è più alto nei pazienti affetti da glaucoma e nelle persone a rischio di glaucoma. Tuttavia, la pressione oculare aumenta solo di una piccola quantità, quindi probabilmente non è un rischio significativo per le persone che non soffrono di glaucoma. Ma, per le persone a rischio di glaucoma esfoliante, un tipo di glaucoma ad angolo aperto in cui si vedono alcuni depositi simili a scaglie sul cristallino dell'occhio. Bere caffeina è associato a un aumentato rischio di glaucoma esfoliante. Ad esempio, in uno studio, è stato dimostrato che tre o più tazze di caffè con caffeina erano associate a un aumentato rischio di sviluppare glaucoma esfoliante. L'effetto era più forte nelle donne con una storia familiare di glaucoma. È importante notare che questo studio non mostra che il caffè causi glaucoma, ma suggerisce che bere tre o più tazze di caffè con caffeina potrebbe non essere buono per gli occhi se hai già il glaucoma. Ulteriori ricerche sull'effetto dell'assunzione di caffeina e sulla progressione del glaucoma sono state condotte da scienziati dell'Università Islamica Internazionale della Malesia nel 2015, che ha pubblicato il suo articolo intitolato Assunzione di caffè e progressione del glaucoma. Lo scopo dello studio era di determinare l'associazione tra assunzione di caffè e progressione del glaucoma. Allora, com'è stato condotto lo studio? È stato condotto uno studio su 91 pazienti con glaucoma primario che assumevano farmaci anti-glaucomatopici e sono stati interrogati sulle abitudini di consumo del caffè durante un periodo di tempo specifico. Hanno quindi effettuato un esame fisico sui pazienti, compresa la misurazione della pressione intraoculare e l'esame del fondo oculare per la gravità e la progressione del glaucoma. E quali sono stati i risultati dello studio? 63 pazienti, 69%, erano bevitori di caffè. Di queste 63 persone, il 68% di loro beveva caffè con caffeina ogni giorno. 42 di quei 63 bevitori di caffè che hanno consumato caffeina nella loro dieta hanno sviluppato la progressione della loro malattia dopo 4,4 anni di follow-up. Il consumo quotidiano di caffè ha aumentato significativamente il rischio di progressione sulla base dell'analisi multivariata. Allora, qual è stata la conclusione dello studio? Gli scienziati hanno concluso che bere caffè ogni giorno era probabilmente associato alla progressione del glaucoma in questo piccolo studio e che forse un paziente con glaucoma dovrebbe ridurre al minimo o evitare l'assunzione di caffeina. Infine, il caffè decaffeinato influisce sulla pressione oculare? No, non si ritiene che il caffè decaffeinato influisca sulla pressione oculare e non sia un fattore che contribuisce alle condizioni di glaucoma perché la caffeina contenuta nel caffè decaffeinato è incredibilmente bassa. Qui su decadentdecaf.com consigliamo il processo di decaffeinizzazione Swiss Water, che utilizza acqua, senza sostanze chimiche, per decaffeinare i chicchi di caffè ed è privo di caffeina al 99,9%.